L'urcera ad Andrea. Andrea da Pontedera si è ammalato. La corpa certa è dell'onquinamento che questa società ci ha rivogato in pochi anni tutto in un momento. All'urcere alle gambe poderose che si stanno allargando sempre più, come se fossi in vene variose. Speriamo che si arregga un caschi giù. Le arse lastie non le può portà. Se non gli gonfia piedi, poverino, qualcuno deve pure rimedià per farlo ritornà proprio a modino. Ora che parrucchino gli è in pensione, ne si potrebbe fare qualche iniezione.